Ma noi siamo molto sereni, vedo un sacco di pressing. La RAI è un'azienda che ha davanti alle sfide tecnologiche, se non vuole abbandonare il campo della concorrenza al satellitare, agli altri contendenti, deve avere una linea aziendale che ristrutture l'azienda e la ponga in condizione di fare investimenti, investimenti sul digitale, sull'alta definizione, investimenti su tutte le frontiere nuove che daranno il senso di chi può affrontare la sfida e vincerla. Se la si paralizza con una governance che non può decidere, la RAI è tagliata fuori. Se finirà così consiglierò alla Coca-Cola di fare una legge che imponga alla Pepsi-Cola una governance come la RAI. Ha risolto tutti i problemi.